L'ADOC del Molise, che è un'associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori molto attiva sul territorio, in una nota sottolinea come dal 1 gennaio tutti i clienti domestici e le piccole imprese attualmente contrattualizzati nel cosiddetto mercato tutelato possono scegliere di sottoscrivere il contratto di tutela simile in modo autonomo o facendosi aiutare da una delle tante associazioni dei consumatori. All'adesione volontaria possono accedere sia i clienti domestici e non domestici che sono già serviti in maggior tutela e quelli che hanno diritto alla maggior tutela nel caso di nuove attivazioni o di volture. La tutela simile è una particolare tipologia di contratto di fornitura di energia elettrica a durata di 12 mesi e non è rinnovabile. Tale contratto, pur se si basa sul mercato libero, è composto da condizioni contrattuali definite dall'autorità e sono tutte obbligatorie ed omogenee per tutti i venditori. Le condizioni economiche sono analoghe a quelle del servizio di maggior tutela, ma con un bonus di riduzione una tantum qualora il contratto perduri per tutti i 12 mesi, diverso da fornitore a fornitore, che verrà applicato nella prima bolletta. In pratica, coloro che aderiscono alla tutela simile per un anno avranno un costo dell'energia elettrica più basso di quello attuale. Le varie offerte sono facilmente confrontabili tra loro e con gli altri tipi di servizio. Questo nuovo contratto si stipula online, sul sito il cliente può scegliere in modo facile, tra un numero limitato di offerte commerciali, tutte semplici, standard e variabili in base al fornitore. Bisogna dire che il bonus varia dai 10 ai 115 euro, a seconda del fornitore, per una media di 48 euro di sconto. Il cliente potrà aderire alla tutela simile fino al 30 giugno del 2018. Importante dire che il cliente, alla scadenza del contratto, ricordiamo per massimo 12 mesi, potrà scegliere se rimanere con lo stesso fornitore oppure stipulare un contratto di mercato libero con un fornitore diverso. Grazie. Grazie.